Cittadini di un mondo, dalle stade infinite, in mezzo mare si libera. Mettiamo le radici, mettiamo le radici per il futuro. Abbiamo piantato un albero che è il segno della vita, il segno del futuro, ma lo facciamo anche attraverso quello che è ormai un appuntamento importante per il Comune di Civitella. Andiamo ad attribuire ai nostri bambini che hanno completato un ciclo scolastico che sono figli di genitori stranieri, la cittadinanza onoraria. Una tradizione che a Civitella in Valdichiana va avanti ormai da dieci anni, il conferimento della cittadinanza onoraria ai bambini di origine straniera nati d'Italia, residenti nel comune e che frequentano le scuole del territorio, in occasione della giornata nazionale degli alberi. Purtroppo ancora in Italia non ci sono leggi che garantiscano quelle che sono l'uguaglianza di questi bambini agli altri. Il Comune Civitella in questo vuole essere avanti e vuole rimarcare questa importanza, che siamo tutti uguali. Nella giornata nazionale degli alberi sono state poi messe a dimora piante nelle primarie Arcobaleno di Tegoleto e Rodari di Cigiano e infine all'asilo lo Scogliattolo. E' un rito, si mette a dimora una pianta, in questo caso sarà una ginestra dei carbonai, e si mette a dimora e i bambini poi se ne prenderanno cura, la potranno accudire, la vedranno crescere, e quindi il gesto è simbolico perché è un richiamo all'attenzione alle tematiche ambientali, ma allo stesso tempo è concreto perché si dovranno poi prendere cura di questa pianta, la pianta crescerà. L'Istituto Comprensivo Martiri di Civitella è capofila della rete green delle scuole toscane. I nostri ragazzi vengono educati a piantare alberi, a coltivarli e a coltivare insieme agli alberi una cittadinanza equa e sostenibile per tutti quanti. A Cigiano infine è anche l'occasione per inaugurare la nuova scuola dopo i lavori di efficientamento energetico che hanno riguardato il presso della primaria, un investimento di circa 286 mila euro, finanziati parzialmente con fondi PNRR. Una riqualificazione importante dal punto di vista energetico che guarda anche al futuro delle scuole.